Difficile dirlo perché abbiamo 3600 ucraini che vivevano già nella nostra città, che stanno mano a mano accogliendo dei familiari. Si stanno rivolgendo circa 100-150 persone al giorno alle autorità per registrarsi e anche chiedere di essere ospitati. Come sappiamo non tutti fino ad ora hanno chiesto di entrare nel circuito di prima accoglienza, quindi si fa una stima e per ora noi siamo in grado di inserire circa 200 persone negli alloggi che abbiamo già individuato e stiamo già facendo i colloqui con le oltre 500 famiglie che ci hanno messo a disposizione casa loro, più altre 100 che hanno messo a disposizione il loro appartamento libero. Quindi quello che noi stiamo dicendo al governo è di mettere i comuni nelle condizioni di poter lavorare perché grazie alle famiglie, al terzo settore e al sistema che avevamo già a disposizione siamo in grado di accogliere in modo dignitoso.